Ciao ragazzi, ecco a voi un nuovo video per la Nail Art Collection. Siamo arrivati all'uscita nona e l'uscita nona la troverete in edicola il 24 febbraio. Come sempre vi sto facendo vedere cosa c'è all'interno di questa uscita, ovvero ci sono quattro barattolini di caviar che sono delle micro perle di quattro colori diversi e vi in ogni uscita ci sono due tutorial, uno fotografico e l'altro fotografico e video e video li troverete nei canali annessi sia su Facebook che su Youtube. Ho fatto come state vedendo due Nail Art dove nella prima ho fatto un mix di colori e nella seconda invece ho utilizzato solo due colori di micro perle di caviar facendo un decoro un po' particolare. Sono molto interessanti questi caviar, sono molto creativi, si possono fare veramente tantissime cose e fare Nail Art molto veloci e semplici. Spero tanto che vi faccia piacere il tutto, trovate come sempre nel box informazioni e link anche qua alla fine del video. Un grosso bacio a tutti quante, ciao!